Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Allora Boris, cosa facciamo oggi? Oggi vi raccontiamo delle cose che sono normali in Italia, ma sono strane in Russia. Vabbè, cominciamo! Fischiare In Russia non fischiamo mai! Perché crediamo che chi fischia perderà i suoi soldi. Sorridere sempre! In Russia non sorridiamo senza ragione. Perché crediamo che chi sorride senza ragione è stupido. Salutare con i baci sulle guanci. In Russia lo facciamo solo con i parenti. Chiamare amico ad una persona poco conosciuta. Perché in Russia crediamo che non si può avere tanti amici veri e usiamo questa parola solo per loro. Esatto. Dare del tu a tutti. In Russia non facciamo così. Perché in Russia è totalmente inaccettabile dare del tu a persone che è più grande di te o alle persone sconosciute. Ragazzi, iscrivetevi sul nostro canale, mettete i vostri like, like, e scrivete nei commenti se volete parte 2. Ciao! 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 Grazie a tutti.